Estate Leporanese 2020, amministrazione comunale di Leporano, assessorato al turismo e allo spettacolo. Giovedì 3 settembre, ore 20 e 30, Piazza Maria Immacolata a Leporano. Muttura, spettacolo rappresentato dagli artisti dell'Associazione Culturale Ali di Teatro, che affronta con la leggerezza di una commedia il difficile tema dei rifiuti tossici interrati nel Salento. Ingresso libero, vi aspettiamo!